Ok ragazzi, a posto, a posto. Ci presta il furgone? Ma dai. Cioè non è che proprio ce lo presta. L'ho messa sull'agonismo. Me lo son giocato a una gara con quelle macchine lì. Se vinco ci dà il furgone. Ma sei scemo? Quello fa l'istruttore. È alla metà dei tuoi anni. È il doppio della muscolatura per altri. Ragazzi ma con chi credete di parlare? Io ho insegnato kitesurf sei mesi in Brasile. Ma che c'è il kitesurf? Non è sempre vento? La stessa cosa, guarda. È uguale. E se perdi che succede? No, no, nessun problema. Perché è suo amico, un debole per te. Se perdiamo, passi la notte insieme a lui. Non ho capito, che tu fa? Devi passare la notte insieme tranquillo. No, se perdo niente. Noi gli diamo 6.000 euro e ci dà il furgone. E chi ce li dà 6.000 euro? Come chi ce li dà? Ah, lui. Io per 6.000 euro ci vado con quello. Sicuro? Sì. Noi gli diamo 6.000 euro. Sì. Noi gli diamo 6.000 euro. Sì. Sì.